Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per iniziare finalmente, finalmente insomma, comunque per iniziare quello che è il libro Tecniche di Guida, scritto da Kate Codd. Io vi invito subito a mettere like, iscrivervi al canale, condividere il video qualora vi arrivasse un'ispirazione così tra capo e collo che vi prende e, vabbè, condividete e intanto andiamo. Nella prefazione ci viene da subito spiegato che il libro è adatto sia a chi guida la moto in pista ma anche a chi guida la moto in strada. Quindi, Kate Codd si ripropone di portare tecniche di guida che vanno bene, direi, per quasi tutti coloro che guidano la moto. Ma il concetto che mi ha affascinato maggiormente nella prefazione è, anzi, non ve lo dico, ve lo leggo direttamente. Guido la moto da oltre 20 anni, ma, ci dice Kate Codd, in un certo caso solo adesso sto cominciando a sentirmi a mio agio con i diversi aspetti della guida. L'importante è non avere fretta. Ho visto persone frettolose che, proprio per questo, non ce l'hanno fatta. È necessario assimilare queste idee facendole proprie e non importa quanto tempo ci durerà. Infatti, se tali concetti non verranno interiorizzati, non si farà molta strada. Quindi, in poche parole, Kate ci dice di avere pazienza. Questo è un concetto che mi piace molto, perché, in un certo senso, si sposa molto con il mio modo di essere. Cosa voglio dire? Mi spiego meglio. Secondo me ci sono cose nella vita che, per essere fatte, bisogna farle. Bisogna buttarsi. In un certo senso, bisogna superare quel limite, quella barriera che c'è all'interno della nostra testa. E adesso vado. Vai! Vai! Felix Baumgartner si butta da 39.000 metri, si lancia verso la... Tuttavia, quelle stesse cose, per poterle fare bene, anzi, molto bene, bisogna assimilarle, bisogna farle proprie e studiarne ogni singola sfaccettatura. E quindi, ora, questo, ragazzi, è un pensiero mio, del tutto personale, quindi non mi saltate addosso, per favore. Prima di agire, prima di prendere una decisione, o addirittura dare la propria opinione, o emettere una sentenza, bisogna cercare di capire. Capire un diverso punto di vista, capire una diversa situazione, capire perché è stato fatto quello che è stato fatto, o perché viene fatto così. Nel caso di un'azione, bisogna farla proprio. Che forse il modo migliore per andare forte sia iniziare andando molto piano? E questo, secondo me, non vale solo guidando la moto, ma in generale nella vita. Vabbè, ragazzi, ma non vi voglio annoiare. Andiamo avanti con il libro. A questo punto troviamo la nota dell'autore, e qui Kate Coode ci vuole chiaramente far capire che il libro non è stato scritto a caso. Per farlo, utilizzo un esempio chiarificatore, e distingue tra consigli utili, consigli distruttivi, suggerimenti utili e la vera tecnica di guida, che è quella che lui si ripropone di portare all'interno delle pagine di questo libro. Un esempio di consiglio distruttivo è, per capire la velocità massima a cui si può arrivare, bisogna per forza cadere. Abbastanza distruttivo, direi. Oppure, per capire quando frenare, bisogna guardare quando frena il nostro avversario, contare fino a due, e poi frenare noi stessi. Non sempre è vero. Un suggerimento utile è, quando si trova una punetta all'interno della traiettoria in curva, bisogna allargare. La vera tecnica di guida è, aprire e chiudere il gas in fase di percorrenza di una curva, altera il modo in cui le sospensioni copiano il terreno. Diminuisce l'aderenza e quindi fa andare larga la moto. Un po' diverso, direi. Voi che ne pensate? Passiamo al primo capitolo. Anzi, prima di passare al primo capitolo vi dirò che io sto facendo adesso, ora, con voi, questo percorso. Quindi non so neanche io che cosa aspettarmi, né dai capitoli che verranno, né dalla conclusione del libro. Mi piacerebbe che questo contenuto fosse discusso anche insieme e spero anche che sia utile per voi. Certo, niente è lasciato al caso, leggo i capitoli, li riassumo, li analizzo per farvi capire che comunque dietro c'è un lavoro, non è che mi metto qui a braccio a fare il video. Spero che questo lavoro sia utile per voi e anche per me comunque. Primo capitolo. Dagli anni 70 ad oggi, Kate Codd ha notato che, mentre con il miglioramento delle moto e del mondo motocelistico in generale, anche con l'avvento della tecnologia, i piloti professionistici dagli anni 70 ad oggi sono migliorati di circa 12-13 secondi a tempo su giro, in alcuni casi anche 15 secondi a tempo su giro, i piloti della sua accademia, soprattutto quelli che si approcciano per la prima volta alla moto a guida ad alte velocità, sono migliorati solo di pochi secondi, 2-3 secondi a tempo su giro. Kate Codd, analizzando questo fatto, è arrivato alla conclusione che forse ci sono degli aspetti che alterano il nostro feeling alla moto, soprattutto nelle prime esperienze, che forse ci accomunino tutti e non dipendono solo dalla moto. E qui viene introdotto il concetto di reazioni di sopravvivenza. Che cosa sono le reazioni di sopravvivenza? Le reazioni di sopravvivenza sono delle reazioni automatiche che noi non controlliamo, che possano essere più utili o meno utili. Ma che cosa intendo con più utili o meno utili? Una reazione di sopravvivenza utile, ad esempio, è io vi chiedo un sasso e voi lo schivate. Oppure io vi chiedo un sasso e voi vi parate. Questa è una reazione di sopravvivenza utile. La stessa reazione di sopravvivenza un po' meno utile potrebbe essere che io vi chiedo un sasso e voi chiudete gli occhi. Un po' meno utile, no? Ma leggendo queste riglie, la prima reazione di sopravvivenza poco utile che mi è venuta in mente è pedone che attraversa la strada. Automobilista distratto, frenata improvvisa, che cosa fa il pedone? 9 pedoni su 10, fateci caso se non ce l'avete mai fatto caso, si paralizzano, si immobilizzano esattamente in traiettoria della macchina. Quindi precisi per essere bucciati pieni. Ora, forse la reazione di sopravvivenza utile sarebbe correre verso il marciapiede. Rimanere fermi direi che è un po' meno utile. Introdotto questo concetto ci viene detto che le reazioni di sopravvivenza sono responsabili al 100% di tutti gli errori che vengono scaturiti sulla guida di una moto. Quindi le reazioni di sopravvivenza su una moto non sono molto utili. Pensate che addirittura nel mondo motociclistico vengano studiate le protezioni proprio in vista delle reazioni di sopravvivenza che hanno i piloti professionistici. Ad esempio, i guanti sono caratterizzati da delle zone a basso coefficiente d'attrito nei confronti dell'asfalto fatte da plastica, metallo o carbonio. Questo perché? Perché nel fase di caduta un pilota professionista tende ad aggrapparsi all'asfalto e questo aggrapparsi all'asfalto, qualora non ci fossero queste protezioni, farebbe sì che il polso andrebbe incontro a slogature oppure fratture. Le reazioni di sopravvivenza sono decisamente poco utili quando si guida una moto. Ma quali sono gli meschi standard che portano alla reazione di sopravvivenza? Entrata in curva a una velocità troppo aumentata. un allargamento eccessivo, un eccessivo angolo di piega oppure il sospetto della perdita di aderenza. E quali sono invece le reazioni di sopravvivenza? Le reazioni di sopravvivenza non sono molto, ma sono molto difficili da combattere. La prima è la chiusura dell'acceleratore, la seconda è stringere il manubrio, la terza è una visuale limitata e una ricerca frenetica di un campo visivo più ampio. La quarta è un'attenzione fissa su qualcosa, la quinta è sterzare nella direzione su cui abbiamo concentrato la nostra attenzione. La sesta è un'assenza di sterzata o una sterzata inefficace, cioè una situazione di paralisi oppure una sterzata anticipata o troppo rapida. Infine, la settima è un errore di frenata, sia in eccesso che in difetto. E Kate Code si ripropone all'interno delle sue pagine di aiutarci, di darci gli strumenti giusti per riuscire a combatterle. Fermi là, perché per il video di oggi è tutto, sì, perché io so che fra di voi ci sono persone carenti di attenzione e quindi più di un tot non si può andare avanti. E allora nel prossimo video vi sarà spiegato qual è una buona regola generale per combattere le reazioni di sopravvivenza e come combattere in particolare modo, nello specifico, la reazione di sopravvivenza numero uno. E quindi, se mi hai seguito fino a questo punto, io a questo punto, fino a questo punto, a questo punto, te, proprio te, ti invito a commentare qui sotto con quale è la reazione di sopravvivenza numero uno che ci porta a commettere errori sulla guida della nostra moto. E per questo video è tutto, io vi ricordo di lasciare like, iscrivervi, commentare, condividere e soprattutto attivare la campanella. Perché la campanella serve per mantenere aggiornate le notifiche su YouTube, in modo tale che ogni volta che io pubblico un video, lui vi dice che io ho pubblicato un video. Non funziona sempre, funziona, non funziona, non lo so, però più ne fate, meglio è. Bene, ragazzi, nulla, non rimane che dirvi buona, belli! Bene, ragazzi!